Vista da Vicenza la sanità siciliana come? Si sta riprendendo dal piano di rientro, molta strada c'è ancora da fare perché le conseguenze del piano di rientro sono state quasi draconiane nel senso che il personale è diminuito e conseguentemente i servizi che sono stati dati all'utenza hanno avuto una flessione in termini di qualità. Cosa gli raccontano i suoi delegati? Di una situazione di difficoltà per chi lavora, sia soprattutto dal punto di vista dei carichi di lavoro quindi della carenza di personale, sia anche di un'insoddisfazione legata a un rinnovo contrattuale. Se fosse l'assessore in razza cosa farebbe? Restituire una dignità al lavoro. Si intende per dignità? Un numero di personale adeguato a garantire i livelli essenziali di assistenza. Mettere in sicurezza le strutture in termini di numero di personale che segue i malati. L'ospedale che chiudono poli territoriali un tempo davvero agguali aggrapparsi in zone che durante l'estate diventano quadripicano, quintupicano il numero degli abitanti e invece chiudono. Lei cosa farebbe? C'è la possibilità di avere dei rapporti flessibili per quelle strutture che parte dell'anno sono dedicate per esempio ad accogliere molti turisti. Possibilità di acquisire del personale a tempo determinato. Non è possibile che a livello regionale in qualche modo si determini un taglio di posti letto e corrispondentemente un taglio del personale. Al taglio del personale non corrisponde il posti letto. C'è carenza di infermieri in Italia o al sud, al nord? Come siamo messi? Pressoché sparsa su tutto il paese. Ciò che ci preoccupa come sindacato è che sta avanzando un certo numero consistente, circa 25.000 unità che possono uscire con quota 100. Fanno in quota 100 in pensione e non si allargano le maglie per i concorsi e quindi per le nuove assunzioni? Questo è quello che speriamo, cioè che ci sia il turnover. Il problema è garantire effettivamente questo turnover. Sarebbe positivo perché aiuterebbe anche a svecchiare quelli che sono gli organici. Non c'è diversità di conoscenze, di professionalità tra il nord e il sud. Per il semplice motivo che io qui a Trapani sono sicuro che se vado in ospedale troverò un infermiere che ha fatto almeno 5 anni, se non di più, in una struttura del nord. Perché essendo stato il blocco delle assunzioni in Sicilia, per trovare lavoro questi colleghi sono dovuti venire al nord. Un tempo si diceva che il miglior medico è l'aereo da Punta Rai per andarsene al nord. Bisogna invertire questa tendenza perché se le regioni del sud continueranno a dare risorse del fondo sanitario nazionale che spettano alla regione Sicilia, devono pagare però i servizi che danno ai propri cittadini che si spostano, è ovvio che non resteranno risorse per garantire quell'adeguamento e quella crescita che la sanità siciliana merita. Gli europei avranno incidenza, avranno efficacia sul futuro della sanità siciliana e nazionale italiana? Non lo so da questo punto di vista se l'assetto politico avrà, almeno a livello nazionale, un contracolpo dopo le europee. Siamo in continua campagna elettorale di fatto e questo non fa bene perché dei provvedimenti di riforma necessitano anche dei tempi di attuazione.